Determinate. No, vuol dire no. Stravaganti. Trasgressive. Chiacciate a giocare al capo tribù. Sexy. Perché sono fatta così, ci vediamo. Sono le donne di cielo. Mi sembrate un pochino casinistiche. Bisogna imparare a conoscerci. A marzo c'è un ciclo di film, tutto dedicato a loro. Per Venerdì Cinema, tutto su mia madre. Venerdì alle 21 su cielo.